Ciao a tutti, bentornati su TheGamesBrew, io sono Roy Lovat e oggi, dopo una lunga attesa, siamo finalmente tornati a Disciple Liberation. E meno male direi, perché ho veramente curiosità di scoprire come finisca questa avventura. Allora, eravamo diventati campioni della fossa, abbiamo sbloccato Bagdahl, il nuovo eroe, che però preferisco lasciare a casa. Tra l'altro, adesso viene il dubbio, non ho visto che abilità c'ha, se lo mettiamo in retroguardia, ah non lo possiamo mettere in retroguardia lì, ok perfetto, niente quindi. E adesso, dopo aver scoperto che c'è tipo sotto questo bellissimo posto dove ci troviamo, qui praticamente, dove sta? Qui, qui sotto stavano tipo raccogliendo i demoni sotto Eurik. Il sangue, tutta un'essenza, non il sangue, come l'essenza nata dalla sofferenza e dall'odio per risvegliare qualcuno. Apparentemente siamo riusciti a fermare il rituale, ma qualcuno, se non ho capito male, è scomparso con parte di quelle essenze. Adesso, come parte della missione di Bagdahl, abbiamo scoperto che Bagdahl, tra l'altro, era più o meno, diciamo, sposato con un'altra tizia che il signore della fossa ha fatto uccidere. Bagdahl che può tagliare finalmente i rovi, così che possiamo accedere a posti prima bloccati. Ah, ecco che cosa volevo vedere. Qua sotto, qua sotto, prima di andare a uccidere questo, c'erano dei demoni. C'erano dei demoni bloccati che, se non erro, erano bloccati da dei rovi e forse adesso possiamo accedervi. Andiamo un po'. Quindi, dicevo, mentre mi muovo, dobbiamo andare a combattere proprio contro il signore della fossa. Dopo essere diventati campioni e aver sconfitto tutti gli altri, adesso è il turno del signore. Fammi andare a vedere qui. Eh, sì, 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 sì. Ok, salviamo perché poi, se non erro, questi erano cattivissimi. Esatto, esatto, a livello 20. Guarda qui che roba, vai. Moriremo male? Non lo so. Vediamo un po' cosa ci aspetta qui. Entriamo subito nel vivo dell'azione. Porca miseria. Uh, non entra neanche dentro... Voglio vedere il martello, non entra dentro la schermata. Ok, questo farà malissimo. Farà malissimissimo. Quindi tu nasconditi. È un po' basso l'audio. Aspetta, l'audio. Dialoghi al massimo, grazie. Musica pure, un po' al massimo. Perfetti, sì. Sentivo più niente. Allora. Questo deve fare veramente tanto male perché ha solo due alleati sul campo. Allora, possiamo andare tipo qui. Senta, ancora basso l'audio. Senta, è bassissimo, senti. Non so perché. Allora. Tu potresti usare tipo questo. E iniziare a far fuori questa. Allora. Oh, che pezza. Aia. Ma hanno tirato? Questi hanno tirato? Cioè, questi hanno l'abilità di supporto attiva. Miseria santa. Miseria santa. Devo fare così, se no me la fanno fuori subito. Abbiamo preso un'altra chieriga prima. Prima un'altra partita. A quanto pare. Non serve a molto perché già la stanno facendo fuori. Rally, troops. I call on his holy fury. Your flash is too. la fai a ucciderla? si ok speriamo che attiri l'attenzione degli arcieri questo qui non puoi fare proprio niente curatela per favore aiaiaiaiaiaia immaginavo immaginavo che ci avrebbe fregato così con un attacco in fila mentre li mettevo tutti ho detto ma forse non è proprio la migliore idea A metterli tutti appiccicati E infatti Premunizione Ok, ok Scusa, vai qui Ok Dove finire l'altra? Sarà giù Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, 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 no E quello muo' muore Dove va? Prende iniziativa? Lo sapevo Lo sapevo Lo facciamo così Vediamo se Riusciamo a farlo fuori Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meno male ha preso lui Vabbè Vabbè Riesci a ucciderla con un colpo solo Che valga la pena Che valga veramente la pena Sto combattimento Che in quel forziere ci sia qualcosa di fighissimo Tu dovresti essere abbastanza resistente no? Ah si, non vale Ok Bene Ok Vediamo un po' che c'è qui Vabbè Dei leggings C'è l'arma nuova ma tanto sti cavoli 15 di forza, 13 di costituzione Eh questi sono buoni se li potenziamo Ok Adesso possiamo andare a uccidere quell'altro Tra l'altro tornerei immediatamente a Illian Per potenziare questi nuovi leggings Per raccogliere le risorse Vedere un po' Ha fatto veramente tanto male quel bestione Meno male che è morto subito Che non mi aspettavo proprio che quelli dietro avessero le abilità attive Di solito ci hanno di supporto Non Supporto passivo Tipo potenzia, cura, robe del genere Blacksmith Ok Ok no i leggings Queste Dovrebbero essere molto più potenti Possiamo potenziare? No Vediamo un po' qui Questi 21 di forza Come era per comparare con maiuscola? Sì Ok Beh direi che proprio sì No no che faccio? Li stavo per smontare La corona poi Eh la corona 34 HP Cavolo Questo è già troppo potente Questi qua No ok Anche poi in realtà potremmo anche già andare via Vorrei prima finire la missione qui La zona Perché ci ha detto di parlare con Orion Il mio bar dentro La città Andiamo qui sotto a curarci un momentino Velocemente Ok Siamo prontarmi Allora Vediamo un po' Cosa ci aspetta qui Voglio combattere Contra Io sono qui per una combina Allora Voglio vedere te in the pits Io ti prendo La legge Da legge Si è così? Ilion potrebbe usare un uomo di vostri talenti Ma non accettiamo solo a qualcuno Provatevi a la battaglia E io potrei lasciare un uomo di vostri talenti Che? Perché? No Non lo voglio Ma perché dobbiamo portare Qualsiasi demone Dentro la città? Cioè ha detto Io ho dimostrato a Euric Di essere all'altezza Eccetera Adesso dimostra tu Di essere all'altezza Noi Ilion avrebbe Bisogno di una persona come te Però chiaro Non è che possiamo ammettere Qualsiasi persona Devi dimostrarmi Di essere potente No Basta Basta demoni Ma perché sempre demoni? Che me frega Combatti Non voglio veramente molto Preparati a morire Via Non voglio Veramente Prendiamo un sacco di bonus Con i non morti Con i demoni Eccetera No No Voglio l'impero Non voglio i demoni Vediamo un po' No Che tipo Cioè pare che c'ha il corpo da donna Bella Bella la maschera Così E questo che fa? Eh bello Mamma mia Non dobbiamo mettere Le unità abiccicate Eh Mi sa che questa volta Non ti faccio nascondere Colpisci subito questo Allora Tu Questo qui che fa? Ancora più forza Quindi dovresti Ah guarda Ah ok Meno male Critico Ah Vai qua C'ha 4000 berserker Eh vedo la Circo del fuoco Queste rompono Allora La bottarella Uh Subito Bene Tipo vai qua Ok bene Cerchiamo di non tenerli tutti appiccicati Allora se vado qua Vado nel fuoco Che non mi pare il caso E vai qui Tu puoi andare qui Quanto è bello Oh sto gioco Madonna Quando te pillo Che perci fanno Ahia Ok non male Non male Dai Devo andare peggio Ok Si è incazzato Ah Vai qui No Si è a lavorarti questa Scoccia Eh lo so lo so Sta in mezzo Dovrebbero Curarla Gli altri C'è due attacchi Questo Bello Che two Wego Che Non Un 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 i father shine a light just a mezzo Vai qua Scusa Ma dov'è la nostra seconda Chierica E' morta Ce n'ho solo una Ce n'avevo due E' fel Scusa non mi sono accorto che era morta la Chierica Ma quando è morta poi? Adesso o nell'altro combattimento? Non mi sono accorto che era morto Non mi sono accorto che era morto Ciao Perfetto Checalo Brava, grande No il veleno, oddio sta rogna di veleno infinita Dove potresti andare a far danno? Qui per forza Ah che circondato Questo silenzio? Ah che dice io Grazie E si è morto in questo turno Mi sa proprio manca a corto Bene Bravo Non credo che questa ci arrivi No, infatti Vabbè, almeno sicura Vabbè la mazzatina questa Ok Sono rimasti in due Meno male Tu sei veramente troppo lontano per far qualsiasi cosa Eh sì Niente Non vedete Non vedete Non vedete Tanto tu puoi fare solo un attacco Ciao Schiantato Vabbè Vabbè Dobbiamo andare a recuperare una di queste No, no No, no, non te voglio Illin No, no, non te voglio Illin Ah, a mani nude Bagdal Stacca la testa del demonio dal suo corpo Sì 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 Io non voglio che questa gente I demoni vengano a casa nostra No? No? I demoni si matano per la felicità I miei amici, i miei amici Tutto per la felicità della mia dolce Ah, quindi era un generale Una volta che ha combattuto per i demoni I demoni dopo l'hanno costretto a combattere con i suoi Soldati Quindi contro i suoi soldati Uno contro l'altro Quindi non è particolarmente felice e amico dei demoni Oh, c'ha proprio una piccola lista E ovviamente vuole vendicarsi Sì 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 C'ha ragione Dice Sai Giusto una volta Mi piacerebbe guardare qualcuno che non mi spaventa Fino dentro l'anima Eh, appunto Sì 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 Infatti dice Che facciamo Andremo a uccidere demoni come vuole lui Sì Il tempo può dire Ma io sicuramente preferisco Lavorare con il suo soldato a mia parte Beh, ovviamente C'è meglio combattere con lui a mio fianco Che piuttosto di avere la sua lama sulla mia gola Eh, su questo Sì Sì Ok Questo No Ancora 20 punti con la legione di Damnade Ma perché? E questa? E' morta Ah, è un nuovo No, basta Ciao E' già stato sostituito Allora, vediamo un po' Allora Volevo investire qui Perché qui effettivamente c'è un sacco di roba Tipo Bene Più forza alle truppe dell'impero Questo potenzia tutte le truppe che stanno con noi Potremmo sbloccare questa Potremmo sbloccare questa Potremmo aumentare il potere Ok I morti non li usiamo I dannati non li usiamo Certo Non so se questo Tipo Potenze Anche gli eroi Eh, abbiamo questa in realtà Certo Le resistenze ai poteri dei soldati sono aumentate 5% per ogni unità che si trovano vicine al campo di battaglia Questo non è male Eh, anche questo qui aumenta i danni di Avianna a bestie, dragoni e gigante Più danno contro elfi e umani Questo non andrebbe Affatto male Perché adesso dobbiamo andare agli elfi Immunatone Eh, questa non mi piace No, questo eviterei Non so Non so se fare questo o questo Facciamo questo Vai Andiamo dagli elfi adesso Poi qui Questo non ci serve Qui abbiamo trovato questi qua 8 destrezzo 8 forza Direi che No Allora dobbiamo tornare un attimo a Illian A prenderci Qui non c'era niente, vero? No, c'erano le prigioni E qui dobbiamo ancora combattere delle persone Però dobbiamo andare a recuperare un attimo Eh, ero qui No Allora ero qui No Possiamo farli salire di livello Eh sì Tocca farli salire di livello Dobbiamo raccogliere le risorse Allora Allora Andiamo anche qui, va Forse riusciremo finalmente Ah, aspetta Se la compra roba nuova Helmi nuovi Armature nuove Guarda questa Un sacco di roba nuova Allora quella abbiamo noi E destrezza 14 Chance critica 7 Che tipo? Compriamo questi e li potenziamo Sì, non sarebbe male Vediamo anche qui Forza 21 No, non credo che questo sia Non credo che potenziandolo Raggiunga Forza questo, no Helmi Dirigenza 15 E questo sì, costituzione No però Ok Mercenari che ci interessino No Ok, e dove stanno gli altri, scusa Ho marcado Ecco Ok dobbiamo prendere le resource e vedi vedi che possono salire tutti di livello ok e torniamo lì perché non possiamo ancora lasciare la regione ci sono dei mostri da sconfiggere qui c'erano lasciati infatti dietro i mostrilli grossi qui a livello 20 tra l'altro anche qui c'è una infatti è proprio questo ok c'è un po di tutto ho visto c'è anche un demone della fossa eccolo che guarda c'è la stessa abilità stupenda la famiglia è una cosa lui viene considerato umano a fazioni non morte quindi potrebbe essere buono potenziarlo e si ha la stessa schifezza di quell'altro ma non c'è quella roba enorme che demoralizza eh non ha fatto niente vai aiutarlo rion se puoi no non puoi mamma mia che bestia che è diventata ma hanno tolto quello per velocizzare questo già è mezza morta secondo me comunque quando sono doppi diventano più deboli che non è normale vabbè che non è proprio la più forte ma non è neanche mai stata così schiappa di solito la chierica resiste ma l'avevano detto che avevano modificato la difficoltà no 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 potremmo fare questa ci arrivi a curarle il cavolo mi serviva a Vianna è ok che a Vianna si può curare da sola no però non è normale che siano così schiappe le paladine le chieriche è una cosa sento la mia paladine bite io li prenderò e poi tra l'altro stando vicino non dovrebbero essere 5% più resistente no il paladino siamo passati da che non arriva nessun soldato ok dobbiamo rivedere un attimo le nostre strategie qui sta morendo troppa gente ultimamente come ha fatto a mancare dai pure confuso e si curate lei più bisogno ok no anche questo attacco ma è pure spaventata adesso no no non farmi sti lisci ma non farmi sti lisci vabbè però contraccambiato ovviamente solo una volta e mi ha tolto metà vita ma tu dovresti continuare a curarti ok ok vai ok vai qua ok 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 Sì, sì, sì. Noi l'abbiamo indebolito. Curatelo! Curatelo! Ma dai, su! Come fate a allisciarlo? Dovresti arrivarci qui, no? Oh, su! Probabilmente l'arciere è diventato l'unità più importante di tutte. Questo fatto che può... Che toglie pochissimo. E può finire i nemici. Me lo uccide, per favore? No. E' già mar, per favore. Questo comunque non ho capito perché... Prima non si incastrava mai, adesso si incastra sempre il cursore. Dai! Hanno aggiunto questo slow-mo quando uccidiamo qualcuno. Vediamo qui che c'è. Ma non credo che sia meglio di quello che abbiamo. Gente, 7, 714 potrebbe diventare più potente. Ora, fammi vedere. Qui tra le unità abbiamo qualcuno. No, abbiamo solo i fante. Allora, facciamo così. Andiamo a riprendere un paladino. Recluta! Non è qui. Qui, recluta. Recluta. Allena. Masseo. Ok. Paladino è qua. No! C'è qui una pozza per curarsi? Sì. Qua. Mi pare che... No, questo qui non voglio assolutamente aiutarlo a scannare la gente. Non mi serve proprio... Altro... Altra amicizia con i demoni. No, direi che abbiamo finito qui. Abbiamo pulito un'altra regione. Qui l'abbiamo uccisi. Questa è la fontana di Mana. C'è qualcosa. Vediamo un attimo. Sembrava esserci un passaggio, tipo... Qui. Dobbiamo vedere un attimo. Vediamo che ci siamo. Eh sì, c'è qualcuno. E che vola. Ah, sono fuggiti. Allora. Vuole che uccidiamo il demone che lo controllava. Paga, metta, aiuta a scappare. Va indietro e uccida tu stessa. Ok. Possiamo tornare a casa e andare a parlare con Orion. No, ha trovato una biblioteca. Ok, niente. Allora, che vogliono. Ok, lo stiamo promuovendo a generale. Non so se... Come stai? Stai bene? Ciao. Lei? Hai riuscito a far parlare Bagdala? Sì, subito. Dovresti stare insieme. Insegnami come far breccia dentro di lui. Cantando. Vediamo un po' lo che dice invece. No, 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 no. Allora, possiamo guardare la mappa. Delle mappe... Delle zone disponibili per ora. C'è solo questa rimasta. La cassa degli elfi. Difficile. Oh, vediamo un po'. Hey Ori, sei sicuro che questo è il White Lens? Sento che abbiamo fatto una scuola wrong. Questo è il campo di Knot. Questo è il White Lens. L'acqua di iron si falla da le sole. È snè, tu imbecile! E per questo, è uno dei molti graviarri che si falla da Mortis' Wake. Bagdala ha detto la cenere sta cadendo dal cielo. E questo fa è neve, imbecille. Oltre la neve ci sono molti e... un sacco di cimiteri lasciati indietro dal risveglio di Mortis. Ah, la terra di Nani. sono morti tutti? è come Jurassic Park. Salve, si possono vedere dei dinosauri nel suo parco dei dinosauri? È questo uguale. Salve, si possono vedere gli elfi nella terra degli elfi? No, non so codardi, Bagdala. Sono snichi-snichi. Sì. Hai ascoltato chi è guidato le persone qui? Solo rumori. C'è una storia vecchia su una princesa o un bambino che le persone adorano. Ma non so come funzionano gli elfi. Non sono nati completamente formati? Sì. È la una cosa che hanno in common. non ci sarà nessuna alliance così tanto che gli elfi stanno qui e siamo qui. Siamo ascoltati. Doviamo salire sulla montagna? Eh sì. Guarda che bello. Le mangrove. Qualcuno ha detto Signore degli Anelli. Cos'è questo? Ci sono... Bello. Un altro passo è un passo No no cerchiamo l'alleanza non ci uccidere. Togliamo. Ma non possiamo mai incontrare della gente normale ovviamente si sono offesi. Maledetti. Volevamo solo passare in santa pace. Ci avete scambiato per dei morti di fame. Uh è cambiata la musica eh. Voglio questo 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 tutto io non vorrei essere obbligato ad uccidervi ma bella 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 sta musica bello come ogni zona abbia la sua musica differente sembrano le musiche di The Witcher alla lontana bello bello sto attacco quando li posso reclutare penso mi sa che l'hanno già incontrato come come the line must not break No, 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 no. Ok, quasi finito sto combattimento, bravo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sono voluti solo tre soldati per far fuori in arciere elfi Vai qua, si ti acceghi un po' però tanto Uccidi questo quindi il combattimento è finito Bye A calpestato una freccia Eh si La vita stiamo bene, non c'è bisogno di curarci Qui possiamo Oh no Sono piante tossiche Oh no Oh no Siamo addormentati E ci siamo risvegliati nelle prigioni E nelle prigioni direi che possiamo terminare questo nuovo episodio Di Disciple Liberation Come sempre vi invito a lasciare un commento qui sotto, mettere like al video e iscrivervi al canale Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao